Qual è il problema del dissesto in Italia? Il paradosso vuole che molto spesso per affrontare il tema del dissesto si debbano togliere le opere a suo tempo fatte per incanalare il dissesto. Il tema all'ordine del giorno è la rimessa in discussione degli argini dei fiumi, delle cementificazioni degli alvei, temi che attestano che molto spesso nelle scelte è prevalsa la cultura dell'appalto su quella del servizio. Ovvero sia non si è puntato sperimentalmente, non si è innovato, si sono scelte strade tradizionali perché tradizionali erano gli interlocutori, magari erano quelli lì che si offendono se parliamo di cementificazione del territorio. Io rispetto al titolo della nostra tavola rotonda trovo che sia un titolo che apre un interrogativo. Dico un po' provocatoriamente, non si capisce se è un auspicio o una fotografia dell'esistente. Penso che per ora sia ancora un auspicio. Prova nel rapporto complesso, per esempio, che hanno tutte le città, a partire da questa, con le campagne circostanti, con l'agronomano. Le polemiche che c'erano state su un brutto piano regolatore di questa città qualche anno fa sono ancora all'attenzione dei mass media, della politica, eccetera, eccetera. Mi pare che era la previsione di una città in regressione che aumentava di 80 milioni di metri cubi il patrimonio edilizio di questa città, il cementificato di questa città. Devo dire altrettanto che, e lo dico anche con una certa, cogliendo l'occasione, che da questo punto di vista il Ministro dell'Ambiente ha un merito storico, e non parlo di me perché non c'ero. Il Ministro dell'Ambiente, quando era Ministro l'attuale Presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile, che saluto con piacere, ha puntato proprio sui luoghi dell'abbandono dello sviluppo. Voi pensate tutta la grande fatica e costruzione di parchi nazionali che sono quasi tutti a valorizzare un appennino che era stato abbandonato e spopolato. È stata una forma di investimento convinta, concreta, non parolaia, che oggi si sposa appieno, direi in maniera lungimirante, con le esigenze poste da questa crisi che non è ciclica, ma è una crisi strutturale del modello. E la crisi strutturale del modello non mette in discussione soltanto il cosa e il come produrre, ma anche il dove produrre, il dove adottare le dinamiche dello sviluppo. Direi addirittura c'è una ridislocazione con la crisi delle linee geografiche dello sviluppo di questo Paese. Qualcuno più autorevole di me, Aldo Bonomi, dice che le aree protette un tempo erano il margine del modello di sviluppo, utile anche a giustificare il modello che c'era. Ecco, quel modello non c'è più ed è in crisi per cause endogene al modello stesso. Non è che abbiamo vinto una battaglia. Il modello industriale, non credo che qui nessuno pensi che il futuro di questo Paese nel meridione d'Italia sia di fare la Fiat a termini merese o quel tipo di modello lì. E quindi per paradosso ciò che era margine del modello oggi diventa centro e vocazione del nuovo modello del Paese. E questa è la ridislocazione geografica delle filiere dello sviluppo. E quindi le montagne e le campagne che erano state un po' relegate nell'abbandono, nel dimenticatoio, anche nell'immaginario, tornano oggi a essere un pezzo strategico e fondamentale non soltanto per affrontare i fattori di crisi che il nostro moderatore ci ricordava, ma proprio come modello di sviluppo di questo Paese. Credo quindi che l'Italia possa vincere questa sfida che ha di fronte a una crisi molto consistente, visto che siamo in una sede che assume dei corni della sostenibilità, la sostenibilità ambientale, ma anche quella sociale. Ecco, credo che l'Italia possa vincere la sfida della crisi se fa l'Italia, e cioè se investe sui prodotti di cui abbonda. Siamo a poche settimane dal semestre europeo, dall'avvio, dalla presidenza, e qualche giorno fa, il 24 maggio, è stata la giornata europea dei parchi. Voi pensate che l'Italia, il settore delle aree protette, è uno dei pochi in cui lo spread è al nostro favore. Ma questo non lo sa nessuno. Lo spread è favorevole all'Italia, noi siamo un riferimento per gli altri Paesi europei, dal punto di vista della conservazione e tutela, di risorse uniche a livello europeo. Non vi do i numeri, se no vi addormento, però, insomma, in un trentesimo del territorio europeo noi abbiamo il 30% delle risorse della fauna e della flora dell'Europa. Questa è la proporzione sintetica, senza cadere nell'elenco delle specie. E abbiamo alcune politiche di tutela che stanno dando risultati importanti, ve ne cito uno per tutte. È tornata la foca monaca a Legati, vuol dire che è stato fatto un lavoro con i pescatori, con la depurazione. Una serie di iniziative concrete, la cito come fattore simbolico. Molte altre specie bersaglie oggi sono in una fase, sia pure con discontinuità, di crescita. E oltre ad avere 50 aree protette nazionali, fra terrestre e marine, noi abbiamo un patrimonio straordinario di siti naturalistici dell'UNESCO. Ecco, voi pensate che noi siamo il paese leader dell'UNESCO in Europa. In Spagna i tour operator organizzano il giro dei siti UNESCO, in Italia nessuno sa che sono. Vuol dire adottare o assumere come volano di sviluppo una roba anziché un'altra. E quindi vuol dire porsi il tema di declinare nuovi linguaggi, nuovi orizzonti alla luce delle risorse di cui effettivamente dispone questo paese. Questo non vuol dire abbassare le soglie della tutela. Ma questa roba qui non la dice il relatore del Ministero dell'Ambiente. Unione Camere, che è il coordinamento delle Camere di Commercio, dice le aree protette sono il santuario del modello di sviluppo. Non si deve mettere neanche un mattone in un'area protetta perché il modello di sviluppo può valorizzare, può servire, può crescere grazie a ciò che crea attorno alle aree protette. Quindi questo voi pensate quanto mette in discussione una serie di banalizzazioni e di luoghi comuni su cui siamo cresciuti. Basti una per tutta, io sono più vecchio di molti di voi. Quando ero piccolo si diceva che questo è un paese che non ha materie prime, è un paese di trasformazione. Voi pensate che la prima industria per fatturate addette al mondo è l'industria turistica, io ho qualche dubbio che non abbiamo materie prime. Disponendo di un patrimonio straordinario, naturalistico, unico, ripeto, che diventa, questo è un concetto del mercato, Frey lo sa bene, diventa un patrimonio irripetibile, laddove si innerva con uno straordinario patrimonio storico-culturale. Ecco, di tutto questo non vi è traccia nelle scelte sostanziali che si operano. E quindi io penso che nella crisi strutturale che viviamo, che impone una radicale rivisitazione del modello a cui siamo stati abituati, la piena valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico e culturale, può e deve concorrere a pieno titolo alla ricerca e alla ridefinizione delle nuove vocazioni su cui puntare. Da oggi e per il futuro, per il lavoro, la qualità di vita e le legittime attese delle giovani generazioni. Ma tutto questo si riflette anche sul prodotto industriale. Cioè, per paradosso, nella crisi che ha vissuto il Paese, la manifattura italiana ha piuttosto retto nel mercato dell'export. Indagini di sociologi dicono, io non la voglio banalizzare e dirvi in due parole, perché un cinese ricco veste italiano, mangia italiano, evidentemente la nostra manifattura di qualità incarna, evoca un potere evocativo delle nostre bellezze, del nostro straordinario patrimonio. E quindi investire sul nostro straordinario patrimonio vuol dire investire sulla qualità italiana e rendere paradossalmente ancora più competitive quelle manifatture di qualità di cui siamo tuttora ricchi. Siamo il secondo Paese europeo. Ma di questa roba si stenta a sentirne parlare. Naturalmente solo nei luoghi delle buone intenzioni, mai nelle scelte. I ministeri dell'economia o gli assessorati dei bilanci, quando si fanno le scelte, questa roba qui pensano che siano delle robe che si possono fare quando ci siamo nelle vacche grasse. E penso che dal punto di vista delle scelte economiche, il tema dei turismi, del tempo libero, della bellezza, delle alimentazioni di qualità possa incarnare un valore strutturale per rispondere alla crisi del Paese. E quindi torna tutto il tema di cui oggi ci stiamo affrontando, e cioè le montagne e le campagne, che sono ricche di questi valori, su cui puntare concretamente. Certo, se alla crisi si risponde rieditando le vecchie risposte, beh, poi c'è la responsabilità politica ovviamente. Leggevo tempo fa che qualcuno pensa che valorizzare le coste voglia dire fare porti turistici e alberghi lungo le coste. Pensate che risposta vecchia. In un Paese dove i porti turistici falliscono, dove hanno senso economico soltanto perché consentono di costruire alberghi, ristoranti e case a terra. Ecco, questa è la prova concreta, non parolaia, di quanto c'è bisogno di rinverdire culture e scelte sostanziali. Ma vedi più. Anche sul piano del modello, affrontare il tema dei turismi, non ce la caviamo facendo più alberghi o più villaggi turistici. Guardate, il modello è sotto gli occhi di tutti. Il mondo croceristico, dove è più forte è arrivata la globalizzazione, io non so se avete contezza di questi numeri, un terzo del personale al mondo, un terzo del personale imbarcato è fatto da filippini. Ma non perché abbiano una cultura marittima, ma perché modicamente il loro ingaggio è vite alloggio. Allora, se noi pensiamo che le giovani generazioni italiane possano lavorare in cambio di vite alloggio, credo che dobbiamo operare una scelta più consapevole. Perché di questo stiamo parlando. Allora vuol dire sperimentare nuovi modelli, che non per forza vuol dire costruire nuovi alberghi o villaggi turistici, perché poi ne viene de plano l'esigenza di abbattere i costi di lavoro, perché quanto è più standardizzato il modello che si offre di ospitalità, si pone il tema di chi può farlo meglio a minor costo. Allora, come fare a valorizzare esperienze importanti? In Liguria, per esempio, nel Parco delle Cinque Terre, stanno sperimentando da tempo l'ospitalità nelle case dei residenti, che vuol dire che chi ospita è anche portatore di sapere, di know-how, di dove si mangia, dove si vede il panorama, dove si vede il paesaggio, cioè fornitore di un'offerta turistica di ben altro lignaggio che il mero servizio in camera. E questo tema, per esempio, potrebbe essere declinato anche in questa città. Una città straordinariamente ricca di mare. Pochi sanno che abbiamo uno dei litorali più importanti del Mediterraneo, in questa città, la cui qualità delle acque è di gran lunga superiore a gran parte dei luoghi della ricettività turistica dell'Adriatico. Però nell'immaginario collettivo i turisti tedeschi vengono a Roma, a Medellino e a Moroetti e poi vanno a Riccione, perché non siamo in grado di declinare un'offerta complessa che sappia mettere insieme l'agro romano, la fascia costiera e i monumenti di Roma. Allora vuol dire cambiare la testa anche di chi offre i beni sul mercato. Ma c'è di più. Noi pensiamo all'astraordinario patrimonio naturalistico che c'è in questa città, che meriterebbe attenzioni e declinazioni diverse. Patrimonio naturalistico che non vuol dire solo il verde, vuol dire il patrimonio di biodiversità straordinaria che c'è in questa città, che nel mondo dei turismi è un'acquisizione scontata da anni in Europa. In Europa, in Germania, il turismo del birdwatching fa 5 milioni e 400 mila presenze. Ma questi dati li studiamo pure in Italia. Nella crisi che c'è stata del turismo in Italia in questi anni c'è soltanto un luogo, un settore dove è continuata a crescere il turismo. Sono dati di associazioni ambientaliste, siamo in Union Camera e col diretti. C'è il turismo nelle aree naturalistiche. Allora, probabilmente, è un problema di investimenti e di culture, di attenzioni, che mette in campo tutti. Chiudo con un esempio non piacevole. Qualche tempo fa avevamo da impegnare i fondi strutturali del periodo 2007-2013. Come Ministero dell'Ambiente però occasionalmente un gruppo di meridionali e le regioni di convergenza erano tutte meridionali, sono tutte regioni metrimoniali. Pur avendo il nostro pacchetto di progetti, voi pensate ai nostri stakeholders, ai nostri clientes, noi l'abbiamo buttato e abbiamo detto un investimento serio, c'era un progetto, un programma che era per gli attrattori naturalistici e turistici. abbiamo proposto la banda larga in tutte le aree protette del meridione. Ecco, quel progetto ci è stato tirato appresso dalle regioni di convergenza, ciascuna con il suo patrimonio di 300-400 progettini la Sagra del Tartufo, il Cavallo, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo per dirvi, non per lasciarvi la mano in bocca, quanto è complesso il tema che mette in discussione, esige una risitazione radicale del nostro modo di pensare, dove non è affatto detto che se non investi su infrastrutture di qualità non trai potenzialità di maggior futuro. Quando vado in Aspromonte al parco per leggere la maschera di Google ci vogliono 5 minuti di roggio. Voi pensate quanto quel parco è tagliato fuori dalle dinamiche del turismo internazionale. Ecco, questi sono fatti concreti e penso che quindi parlare di montagne e campagne ha senso non in chiave evocativa e nostalgica, ma ha senso soltanto se comporta investimenti e scelte di campo. Grazie. Grazie al direttore. Cerchiamo di accelerare un attimo. Allora, il prossimo intervento è dell'assessore Fabio Refrigeri, assessore a infrastrutture, politica abitativa, ambiente e ragione Lazio. Già queste competenze assieme dicono che ci azzecca infrastrutture con l'ambiente è una bella sfida. Credo che non sia l'unico in Italia, però sicuramente se penso anche a quello che è stato detto dal direttore generale non è facile mettere insieme queste competenze soprattutto di questi tempi non solo di crisi generale ma soprattutto molto di crisi delle amministrazioni locali e delle regioni. Grazie. Grazie.